Stasera leggiamo la seconda parte del capitolo 9 del Silmarillion, e cioè la fuga dei Noldor. Quindi vi auguro una buona lettura a Riccardo e a voi un buon ascolto. A te Riccardo. Il microfono è qua. Ah, dobbiamo partire da ora quando si diceppe che è Morgos, ok? Dalla quarta, più o meno quarta, quinta pagina. E arriveremo, ci facciamo altre quattro pagine, arriviamo fino a far dello strada facendo, ok? Circa quattro pagine. Ci piace, ci piace. Io ho anche una sorpresina per oggi. Ah, che sorpresina? Ho una sorpresina e vi farò vedere più tardi, dai. Ok. Vai. Ora, quando si disseppe che Morgoth era fuggito dal Valinor e che l'inseguimento era stato invano, i Valar rimasero a lungo seduti nell'oscurità, dentro l'anello della sorte. E i Maiar e i Vanyar stavano accanto a loro e piangevano. Ma in Oldor per lo più tornarono a Tirion e si lamentarono per l'oscurarsi della loro bella città. Attraverso la tetragola del Calachiria nebbie penetravano dai mari ombrosi e ne ammantava torri e la lampada della Mindon ardeva pallida nella tenebra. Poi all'improvviso, Feanor comparve nella città e convocò tutti alla alta corte del re, sulla cima del Tuna. Ma la condanna del bando decretato contro di lui non era stata ancora tolta e la sua costituiva una ribellione contro i Valar. Gran folla, pertanto, si radunò in fretta per udire ciò che avrebbe detto. E il colle e le scalinate e strade che vi si arrampicavano erano illuminate dalla luce di molte torce, ciascuno reggiandone in mano. Feanor era maestro di eloquenza e la sua lingua aveva grande potere sui cuori quando voleva usarne. E quella notte pronunciò di fronte non discorsi mai. Fiere e impetuose erano le sue parole ridondanti di collera e orgoglio e all'udirla in Oldor furono colti da pazzia. L'ira e l'odio di Feanor andavano soprattutto a Morgoth eppure quasi tutto ciò che diceva era frutto delle menzogne di Morgoth stesso. Ma era conturbato dal dolore per l'uccisione di suo padre esacerbato per il ratto dei Silmaril. Pretese il regno di tutti in Oldor essendo fino e morto e si fece beffe dei decreti dei Valar. «Perché mai, popolo dei Noldor?» gridò. «Perché mai dovremmo ancora servire i gelosi Valar incapaci di difendere non solo noi ma persino il loro stesso regno dal loro avversario? E per quanto egli sia loro nemico forse che essi e lui non sono di una stessa schiata? La vendetta mi chiama lontano da qui ma anche se fosse altrimenti non dimorerei più nella stessa terra con la schiatta dell'uccisore di mio padre e del ladro del mio tesoro. Pure non sono io l'unico valente tra questo valente popolo! E forse che non avete tutti voi perduto il vostro re? E che cos'altro non avete perduto confinati come siete in una terra angusta tra i monti e il mare! Qui un tempo era a luce che i Valar lesinavano alla terra di mezzo mentre ora l'oscurità tutto livella! Dobbiamo starcene qui con le mani in mano a cacciarlai per sempre? Popolo delle tenebre abitatori di brume versando vane lacrime nel mare in grato! o non conviene piuttosto tornare nella nostra patria in cui viene in dolci scorrevano le acque sotto stelle non velate e ampia la terra si stendeva attorno su cui un libero popolo poteva aggirarsi! Là stanno ancora! E attendono noi che nella nostra follia le abbiamo abbandonate! Andiamocene di qui! Lasciate che i CODARDI restino in questa città! Ok Ok Allora io non non ho parole farei un applauso non voglio disturbare però lo farei lo farei con molto piacere questo era uno degli eventi cruciali del Silmarillion e quindi ti ringrazio perché è il momento di Feanor e mi ha emozionato mi ha emozionato stavo venendo le lacrime quindi stavo venendo le lacrime quindi grazie Riccardo e grazie ovviamente anche a tutti voi che appunto state apprezzando mi fa veramente tanto piacere perché questo è ripeto è uno dei momenti cruciali del Silmarillion e vedo anche tra l'altro hanno pensato per i sub sono arrivate quindi devo ringraziare anche Riccardo per questo ringrazio un savoiardo affidabile grazie per il tuo Nick grazie per il Prime grazie Trenul grazie per i due mesi e grazie anche Eclipse grazie per i due mesi anche a te un grande Riccardo mamma mia avete apprezzato vedo esattamente come ho apprezzato anche io e sicuramente anche Paolo quindi grazie a voi e grazie ovviamente a Riccardo ora come ho detto questo era un momento cruciale era il momento di Feanor Feanor sappiamo che è un animo è un'anima focosa ok di lida feanoriana però come ci dice Tolkien era anche in grado di parlare bene era anche in grado di convincere di essere carismatico ecco questa secondo me è una delle caratteristiche principali di Feanor e che viene fuori anche da questa fase probabilmente Feanor è l'elfo più carismatico che si ha mai vissuto su Ard e questo suo carisma lo si nota subito lo si nota le parole che lui usa forse sono delle il discorso che lui fa è un po' un discorso populista lo possiamo dirlo è un po' populista come discorso cioè prima gli elfi prima gli elfi torniamo al nostro paese andiamo riprendiamoci il nostro paese torniamo dai nostri ecco prima i nostri elfi a cui vienen andiamo ad aiutare e aiutiamo i Valar a casa loro a casa loro esatto è un po' ragazzi se lo dico io che è un discorso populista in effetti lo è però non a caso lo fai non a caso il populismo funziona altrimenti non ci sarebbero fior di politici che lo usano il populismo funziona e anche nell'universo tolkieniano a quanto pare poi funzionerà non vi voglio anticipare granché perché qui siamo arrivati ancora al punto adesso leggeremo ovviamente un'altra piccola altre due pagine però siamo ancora al punto in cui ancora non sono partiti quindi magari chi di voi non ha ancora letto il simanino lo sta leggendo insieme a noi non sa ancora effettivamente chi accetterà di andare anche se già da questo pezzo che abbiamo letto una persona è una persona che sarà fondamentale poi è strano è strano è strano che Galadel accetti a maggior ragione perché comunque appartiene alla schiera di Finarfin che come abbiamo visto in realtà è uno dei è il più pacato invece la figlia di Finarfin accetta subito di andare ovviamente in questo caso non lo accetta ecco voi dovete tenere conto anche di questo molti degli elfi che accettano poi di andare con Feanor non accettano perché vogliono seguire Feanor accettano perché come esattamente come Galadel vogliono rivedere i posti dove è nata la loro stirpe dove è nata la loro razza dove sono nati gli elfi quindi vogliono vedere la terra di mezzo e qui Tolkien ce lo dice molto chiaramente non ci dice che Galadel vuole andare perché vuole seguire Feanor sicuramente i figli di Feanor vanno perché vogliono seguire il padre questo è poco ma sicuro sicuramente molti dei nold seguono Feanor perché vogliono seguirlo però molti altri c'è da dire che non vanno perché vogliono seguire Feanor vanno perché vogliono rivedere la terra di mezzo il problema però è che agendo in questo modo quegli elfi che non vanno per seguire Feanor anzi Galadel in realtà non apprezza Feanor lo sappiamo non vanno per seguire Feanor ma vanno perché vogliono andare alla terra di mezzo verranno ingiustamente coinvolti nella stessa eh nella nello stesso guaio quindi i Valar li considereranno comunque dei traditori qui c'è una mancanza dei Valar perché allora non ho capito se un elfo vuole andarsene nella terra di mezzo non può andare perché viene considerato un traditore automaticamente non non cioè questa cosa anche qui secondo me c'è un problema dei Valar ovviamente io sto già parlando del futuro quindi questa è ancora una cosa che magari vedremo a breve però ricordatevi delle cose che sto dicendo che comunque verranno diciamo il fato su cui di Feanor la maledizione di Feanor ricadrà su tutta la razza degli elfi ok anzi su quelli che andranno nella terra di mezzo ci saranno alcuni che poi torneranno come vedremo a metà viaggio immaginate indovinate chi tornerà chi è provate a indovinare chi ancora non si è letto il simonio secondo voi chi potrà mai ritornare sui suoi passi è un debole è un debole sapete a chi mi sto riferendo sapete che ma anche dalle cose che dice c'è l'unico pacato che palle che palle Finarfin mamma mia che palle e meno male che c'è la figlia di Finarfin Galadria che almeno dà un po' più di vita a questa casata per il resto le parole che dice Feanor come ho detto sono molto 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 acchiappone cioè ovviamente tende di cerca di acchiappare quanti più nodor possibili e lo fa di sicuro additando i Valar come il problema della situazione però più che additare i Valar lui punta molto sulla questione andiamo dai nostri simili andiamo a riprendere i nostri simili andiamo ad aiutare i nostri simili nella tre di mezzo e andiamo a riprenderci i Silmarri ecco lui è molto capace anche di fare questo lui cerca di infondere nel cuore dei Noldor quella consapevolezza che i Silmarri in realtà non sono un'eredità solo feanoriana ma sono un'eredità di tutti i Noldor che è un'azione ecco in questo caso è un'azione scorretta a mio parere che sta succedendo no 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 non worry non worry no 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 non mi preoccupa allora vi stavo dicendo è un'operazione scorretta effettivamente perché fino a poco fa i Silmarri non sono i suoi vedete quando c'è da criticare Feanor io lo faccio non è che voglio fare il difensione dell'avvocato del diavolo in questo caso diciamo per quanto sia il suo momento il suo discorso che stando ad alcuni di voi vedremo anche nella serie perché alcuni di voi l'hanno intravista questo momento in un frame di un trailer che però per me non è piccola parentesi quindi questo momento secondo me non lo vedremo nella serie per quanto sia il suo momento in questo caso lui agisce in maniera molto furbacchiona è molto furbo nelle parole che io uso ripeto ha un atteggiamento estremamente populista consapevole però di star dicendo comunque delle non delle falsità ma sta dicendo delle incongruenze con quello che è stato il suo comportamento fino a poco prima perché lui poteva dare i silvari per salvare gli alberi non l'ha fatto a mio parere non così ingiustamente io già mi sono espresso a riguardo però poi non mi puoi dire non mi puoi fingere che i silvari non puoi far pensare ai tuoi simili che i silvari sono di tutti se poco prima non li dai per salvare gli alberi dai questo no questo per me su questo io lo critico ovviamente ripeto il giuramento questo suo discorso che fa è emozionante è bello è epicissimo però mostra palesemente le sue incongruenze mostra ecco quel suo lato ipocrita che verrà fuori più volte questo io non l'ho mai messo in dubbio sia sulla questione dei silvari sia sulla questione appunto di andare a riprendersi andare ad aiutare i loro simili in a tra di mezzo no in realtà Fennel non significa niente dei suoi simili a cui viene partiamoci molto chiaramente lui vuole andarsi a riprendere i silvari tutto questo e ovviamente lui sa che da solo non lo può fare e allora che cosa cerca di fare cerca di alzare i suoi simili quello fa è intelligente è geniale a suo modo avrebbe sicuramente vinto le elezioni però rimane pur sempre un ipocrita questo e vedete ragazzi quando c'è da criticare Fennel io sono il primo che lo fa quando però vedo delle critiche eccessive sul suo atteggiamento io sono il primo che lo difende però in questo caso non posso fare altro che definirlo effettivamente ipocrita tutto questo vai Paolo allora analizzando questo meraviglioso discorso di Fennel make middle earth great again si possono vedere delle cose molto carine beh innanzitutto che Fennel arriva e fa il discorso ring a tutti in un luogo in cui non potrebbe stare perché è stato bandito e quindi continua a sporlocchiare nonostante uno dovrebbe stare là e per di più in questo momento comincia veramente la fuga degli elfi dalla luce ed è stavo pensando che è bellissima la costruzione dell'intero capitolo perché noi abbiamo avuto l'avvelenamento l'uccisione degli alberi nel capitolo precedente quindi sono arrivate le tenebre in questo capitolo vengono rubati i Silmal quindi la tenebra ormai è totale e Fennel fa questo discorso che getta il mondo ancora di più nelle tenebre perché ormai gli elfi voltano le spalle alla luce salutano i Valar se ne vanno da Valinor e tornano nella terra di mezzo che si capisce chiaramente che adesso partono quindi Fennel è colui che pone le tenebre definitiva e nonostante nel suo discorso dice dica noi soli saremmo i signori della luce è bellissima questa cosa perché lui si arroga o arroga non so come si dice il diritto di essere luminoso il popolo della luce e quindi di fatto si pone sullo stesso livello di Melkor che lui odia ma non lo vede più come un nemico ma come un rivale con cui competere e quindi alla fine diventano competitor per avere la luce degli Silmaril tutti e due voltando le spalle i Valar e comunque il discorso di Fennel ha le bestemmie dentro perché pone i Valar sullo stesso livello di Mordod dice tanto sono tutti uguali tanto la tenebre è ovunque i Valar si sono comportati allo stesso modo di Melkor non cambia niente andiamo via perché tanto ci sono le tenebre e il giuramento che fa lo fa in nome di Ilúvatar e questa è la massima bestemmia totale infatti questo giuramento terrificante sarà fondamentale perché come è stato ricordato adesso da Frank caratterizzerà tutta la stirpe dei Mordor ma anche tutti i figli di di Feanor che anzi sono tutti convinti e fanno parte di questo giuramento tutti felici e contenti ma non si stanno rendendo conto che si stanno costruendo la bara con le loro mani perché da questo momento in poi tutti i figli di Feanor e la loro stirpe sarà legata a questo terrificante giuramento che porterà distruzioni lutti catastrofi morti da tutte le parti dolori e arriverà arriverà al punto in cui gli stessi protagonisti arriveranno a odiarlo ma non potranno fare niente per spezzarlo per cancellarlo e tutto questo fa di Silmarilio una storia assolutamente tragica che tra l'altro dice qualcosa anche sul destino degli Elfi sul fatto che gli Elfi siano di fatto ancorati al fatto e che quindi debbano sopportare tutte le tragedie che sono legate a questo fatto che loro stessi hanno originato con questa decisione di Feanor perché ricordiamo che l'ultima volta si era fatto questo ragionamento quanto c'entra il libero arbitrio di Feanor e quanto c'entra invece il destino Feanor ha combinato la frittata perché si è rifiutato di dare i Silmaril che non possedeva e con questa decisione ha fatto sì che tutta la sua stirpe fosse vincolata al suo destino che lui stesso ha scelto tra l'altro questa cosa di qui viene meravigliosa perché lui è come appunto un bravo politico populista dice torniamo a cui viene torniamo nel luogo della nostra origine rivediamo le nostre origine la nostra terra ma in realtà questi quando vanno dall'altra parte del mare finiranno nella terra di mezzo si fermano nel Beleri a cui viene non c'erano mai quindi già da questo fallisce tutto questo discorso che è indotto dalle parole di Morgoth lo dice chiaramente il testo che tutto quello che dice Feanor si basa sugli inganni di Morgoth e io vorrei ricordare che qualche capitolo fa abbiamo letto che Morgoth era andato a suggerire nelle orecchie a Inoldor dicendo guardate che i Valar vi stanno tarpando le ali loro non vogliono che vi andate nella terra di mezzo perché nella terra di mezzo ci sono gli uomini e quindi sono gli uomini che devono fare siregne nella terra di mezzo voi siete schiavi dei Valar e infatti Feanor dice proprio questo basta stare qua i Valar ci tengono prigionini i Valar sono come Morgoth freghiamoci ne partiamo e costruiamo i nostri regni all'est e quindi è un tripudio di arroganza superbia possessività in questo momento viene fuori il peggio del peggio e non bisogna mervegliarsi che venga fuori quello che leggeri in seguito eh sì tante brutte cose allora tante brutte cose in cui casca pure la nostra tanto cara Galadriel però lei per un motivo diverso allora volevo mettere un'immagine di Feanor una delle più belle che conosco prima allora volevo leggere qualche commento però dato che devo spostare il pappagallino che sta facendo un casino di pazzi e non voglio disturbarli metto un attimo l'immagine e do la parola a Riccardo così intanto sposto un attimo il pappagallino allora questa poi è una delle immagini più belle di questo momento che io ho trovato sempre l'aspetto l'aspetto di Feanor qui allora l'aspetto degli altri è molto 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 mangaka riguarda molto i manga però mi piace perché fa capire proprio il momento in cui lui arringa la folla a parte quell'immagine che noi abbiamo qui dietro però quello che abbiamo come background qui dietro è il giuramento qui è proprio dove lui arringa la folla fa il comizio fa il comizio è vero e allora voglio prima di dare la parola a Riccardo no devo spostare il pappagallino quindi Riccardo ti do una parola se vuoi aggiungere magari il tempo anche di spostare il signorino lì allora sposta il signorino vai allora questa immagine devo dire che mi piace veramente tanto non l'avevo mai vista non la conoscevo io immagino eh no infatti è veramente nuova poi ci facciamo perché vedo sul tuo canale ne usi una qualità notevole vedo che usi tra l'altro usi sempre immagini tra le mie preferite ne conosco tante e approvo le tue scelte questa qua non la conoscevo questa qua non la conoscevo ed è completamente diversa da come mi sono sempre immaginato questa scena non so tu Paolo ma io mi immagino è Feano in uno spiazzo da solo circondato da tanta gente però mi piace vederlo qua proprio nel mezzo in mezzo al sudore delle persone ecco quello che mi piace di questa immagine è che proprio immagino il sudore delle persone immagino la immagino Feanor che sta proprio in mezzo al al fermento del di tutta questa gente mi piace molto perché appunto l'ho sempre immaginato in una scena un po' più istituzionalizzata un po' più tipo appunto come diceva prima Franco Mizzio l'ho sempre immaginato un po' come Frank in una piazza da solo con cinque metri di spiazzo aperto in mezzo a lui invece mi piace molto vederlo vederlo così ad arrengare la folla in un modo un po' più viscerale un po' più a contatto proprio con le loro e con la mano sulla spada e con la mano sulla spada bravo bellissima osservazione Paolo ah io prima prima di dimenticarmene io volevo quello che dicevo prima Frank io volevo fare una piccola sorpresa oggi perché mi piacerebbe leggere il giuramento di Feanor in Quenia perché ho trovato ho trovato su via Tolkien Gateway non so se lo conoscete tu Paolo e tu Frank lo conoscete sicuramente Tolkien Gateway però per chi non ci ascolta qua Tolkien Gateway è una wikipedia dedicata a Tolkien gestita interamente da fan che ragazzi voi come me potete attestare sulla sua autorità è una wikipedia fatta bene che cita sempre le fonti fatta veramente molto molto bene e ha linkato appunto un ragazzo che ha fatto una traduzione in Quenia del giuramento di Feanor parola per parola di ce lo puoi linkare ce lo puoi linkare mo ve lo linko te lo mando nel frattempo nel frattempo mentre aspetto il link leggo un po' di commenti allora si vai Morico dice Frank guarda il fatto è questo Frank va a Valinor Feanor a Valinor non ci vuole più rimanere il padre è l'unica cosa che lo atteneva adesso in modo della caneshop ma ancora di più vuole riprendersi i Silmaril quindi a lui effettivamente a tre di mezzo non significa nulla quello è il discorso quindi non è manco secondo me il fatto che non vuole rimanere a Valinor lui vuole riprendersi i Silmaril tutto qui come da di torto tra l'altro è stato l'anno Morgold ha letteralmente fregato e gli ha ucciso pure il padre cioè credo che il minimo sia volerseli riprendere Asile o Asile dice per me a Feanor degli altri in onda non fregava nulla assolutamente sì cioè hai ragione voleva solo un esercito per gli avedesi esatto perfettamente raccogli sotto a capella genelli mi ricorda molto quelli che avevano i nani di Erebor per l'Ark and Gemma questo è un tema che ritorna anche con ragazzi l'anello l'anello è lo stesso tema che ritorna sapete a questo proposito c'è una lettera di Tolkien proprio quando Tolkien ha scritto l'Hobbit in cui si era reso conto che il problema dell'Ark and Gemma era lo stesso dei Silmaril siccome lui aveva già creato questa storia dei Silmaril ha scritto che purtroppo si era reso conto che aveva creato con l'Ark and Gemma un Silmaril la misura di Nani che aveva paura di aver rovinato la sua mitologia perché aveva replicato lo stesso tema anche all'interno dell'Hobbit e siccome l'Hobbit l'ha scritto quando era ancora giovane insomma negli anni 30 vuol dire che proprio era letteralmente ossessionato da questo tema del possesso e della brama di possedere le cose che come ha ricordato Frank torna anche torna sempre e allora vi ho linkato il discorso in lingua elfica in Quenia di Feanor che adesso il nostro Riccardo andrà a leggere e già ti dico Riccardo che estrapolerò questa tua lettura per farci un video apposito sul gioco addirittura spero di farlo abbastanza bene infatti sono sicuro che lo farai estrapoleremo questo audio quindi un attimo che però finisco a leggere i commenti bellissimo tra l'altro il nick di capire e amare il Silmarillion bellissimo bellissimo il tuo nick e che ci ha messo tutto se stesso sono quasi sui figli spalla dei Silmarillion ovviamente comunque il tema dell'abilità per i gioiello e comunque anche il loto per l'anello esattamente quello che dicevamo e ancora complimenti per il nick Feanor Veneto esatto ringrazio tra l'altro Shigerion per la sub grazie Shigerion con il frutto dei Silmarillion e la maledizione di Feanor Mercoli lucente diventa definitivamente morgo sull'oscuro esatto entrambi e sarà Feanor che lo etichetterà in quanto tale entrambi perdono la luce e si incamminano sulla via dell'Eterno è un po' tutta la razza elfica che si incamminerà verso perderà la luce in generale e perderà anche la fortuna come vedremo allora ragazzi io lascio quindi la parola al nostro Riccardo che ci leggerà il giuramento di Feanor in lingua quenia quindi come tra l'altro il quenia era la lingua parlata dagli elfi avvalino in quel periodo quindi è proprio il giuramento detto in lingua originale possiamo dire esattamente così non doppiato doppiato me o meglio dalla voce di Riccardo e a te Riccardo allora faccio due debite due dovutissime precisazioni uno verrei flagellato sia da Gianluca Comastri sia dal nostro amato professore per la mia pronuncia del quenia perché la sto insomma un po' di pronuncia quenia e sindarin me ne intendo però leggere così fluentemente un discorso così lungo penso che farò moltissimi errori in secondo luogo quindi non aspettatevi chissà cosa in secondo luogo questa qua non è una cosa scritta ufficialmente da Tolkien Tolkien ha scritto il discorso sia egli vala o uomo demone o questo quest'altro e questa qua è una traduzione fatta in quenia di una persona che non è Tolkien ma è un certo Milan Rezac che evidentemente è uno studioso di quenia di sindarin nelle lingue di Tolkien che ha fatto una traduzione ma ecco ci tengo a precisare che non è ufficiale di Tolkien e che la mia interpretazione è tutto forché è tutto forché precisa però proviamoci dai buttiamoci vai 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 parola a te allora Vanda Feanaro Nosseo Naikotumo Kalimavala Thauser Poika Moringothanna Eldar Maya Rapanona Endoresse Atansinunona L'Università 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 ok ok minchia sentirlo così il quenia complimenti perché a me mi sembra che la tua pronuncia sia perfetta almeno da quel poco che conosco il quenia quindi complimenti c'è in chat chi dice sembra tedesco in parte allora si ricorda molto effettivamente quella lingua lì però è una figata ragazzi poi fra l'altro noi siamo abituati al sindarin magari il sindarin suona molto più liquido molto più sciolto il quenia invece è molto più corposo e scandito è molto più sincopato rispetto al sindarin che invece è molto più fluido ed è fantastico bellissimo comunque veramente bello e niente allora complimenti riccardo complimenti anche qui complimenti veramente grazie per questa sorpresa e ripeto la estrapolerò per farci un video quindi la ritroveremo anche sul canale questa cosa magari ti andrò per bene se hai voglia di farci il video sì sì no più di altro sai perché che è successo che in due momenti la connessione si è quasi bloccata e poi al ripreso lo riregistriamo dai lo rifacciamo magari anche con la consulenza del professore del professore va bene e dai così lo pronunciamo proprio perfetto così come deve essere va bene va bene va bene va bene allora comunque arriverà anche questo video ovviamente su youtube e allora detto questo abbiamo avuto anche la lettura del discorso di Feanor in Quenia direi che voglio far riposare un attimo le corde vocali di Riccardo vado un attimo in bagno a tal problema vai 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 e allora anche mio marito ha detto che i ricordi del tedesco ma allora considerate che comunque Riccardo gli ha dato un'intonazione molto potente gli ha dato un'intonazione quasi incazzata perché ovviamente ha cercato di replicare e a mio periodo ci è riuscito benissimo la foga feanoriana del momento ovviamente per esempio se lo leggo io in maniera ovviamente totalmente sbagliata posso leggerlo così letto in questo modo cioè in maniera quasi neutrale ovviamente non sembra sembra molto meno tedesco rispetto invece a quello che ha pronunciato letto come ha letto prima Riccardo cioè in maniera incazzata ma questo io credo che sia dovuto al fatto che comunque il Quenia avendo ha una struttura che ti lo fa in giapponese Frank no assolutamente no allora il Quenia sembra avere una struttura da persona non competente del settore perché non sono minimamente un linguista però da persona che semplicemente ha una minima quel poco di sensibilità che ho che ritengo di avere con le lingue e mi sembra una lingua che ha una una diciamo ecco l'ho detto prima è molto più sembra molto più sincopata ok? cioè ha una cadenza molto più decisa rispetto invece al Sindarin dove le parole si legano fra di loro in maniera molto più fluida invece le parole del Quenia sembrano essere non spezzate ma tra una parola e l'altra sembra lo spazio si sente cosa che invece viene molto meno con il Sindarin dove le parole sembrano quasi unite legate l'una all'altra so se mi sono spiegato almeno questa è la sensazione che ho poi ovviamente ci sarà sicuramente fra di voi qualche linguista che potrà dirci meglio questa come funziona la cosa e dal pochissimo che so dovrebbe essere ispirato vagamente dal finlandese allora in realtà tutte le lingue allora lui Tolkien una delle lingue da cui ha preso più ispirazione era il gallese antico le lingue ovviamente anglosassoni l'inglese antico e anche il finnico quindi anche le lingue le lingue scandinave sicuramente le lingue del nord Europa qui non c'è nulla di sud o cos'altro sicuramente le del nord Europa io quando avessi la biografia di Tolkien c'erano anche alcuni passaggi che lui scrisse se non sbaglio in gallese o comunque delle cose che lui scrisse in gallese e il gallese antico ricorda molto quel quenio effettivamente e lui come ho detto prima ha preso molte ispirazioni dal gallese antico lui infatti iniziò a comporre proprio con quelle lingue lì quando era ancora all'università se non sbaglio faccio l'accento svelese questa è una citazione che conoscerete sicuramente un po' tutti e magari registro durante un'ora più consa perché arriva l'esercito sotto casa sì lo so vabbè ma allora considerate che adesso purtroppo Riccardo non sta nel suo studio consueto sta a casa dei suoi genitori quindi ovviamente non è propriamente lo stesso effetto ovviamente infatti se lui riesce a farci la registrazione dallo studio fatta veramente bene dal punto di vista acustico viene una cosa una cosa stratosferica infatti già io l'ho detto se lui è appunto lo vuole fare sarò ben felice di poterlo portare anche su youtube questo ci sarà l'unica l'unica presente l'unico aggiornamento di fan su youtube sarà il primo e unico e mi ricordo allora Riccardo hai chiesto prima purtroppo non lo so io dovete capire dovete sapere che io non sono questo grande esperto di amazon di scusatemi di twitch da quello che so puoi semplicemente ah voglio ringraziare anche Decadex per la per Prime ovviamente per la Sam da quello che so perché io l'ho fatto una sola volta la sub su un canale una volta che hai fatto l'abbonamento a Prime lo associ a twitch e poi semplicemente quando vai ad abbonarti utilizzi il Prime tutto qui e almeno quando feci questa cosa feci così associai il Prime al mio account e quando andai ad abbonarmi al canale semplicemente utilizzai l'abbonamento Prime tutto qui e durò un mese sì durò un mese durò un mese l'abbonamento Prime durò un mese però poi tu lo puoi rinnovare ogni mese perché per male tu rinnovando l'abbonamento Prime Video tu rinnovi l'abbonamento anche su Twitch e quindi puoi usare anche il mese successivo lo stesso abbonamento per un solo canale ovviamente per un solo canale in vari scritti ho trovato che ha preso ispirazione anche dal dialetto molisano non ho dubbi su questa cosa non ne ho il minimo dubbio che altro aspettate avete scritto qualcos'altro ah volevo anche rispondere a capire amare il Silmarillion lo so infatti io ti seguo ho controllato mi ricordavo della tua pagina infatti ti seguo appunto su Facebook ti seguo con il mio account privato quindi bellissima pagina però l'altro infatti ve la consiglio ragazzi capire amare il Silmarillion se scrivete le tre parole le quattro parole staccate trovate la pagina Facebook su Facebook no Riccardo Spanito eccolo qua l'hanno arrestato pensavano che l'avessero arrestato c'è mancato poco c'è mancato poco ti sentiamo lontanissimo però adesso ti sentiamo con un rimbombo forte 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 a me mi sentite con il rimbombo? sì forse adesso forse di meno il microfono è più vicino alla bocca no prima ci volevo lontano adesso va bene adesso va bene non guardate mentre stavo in bagno ok va bene va bene va bene allora Rick direi che possiamo andare per la prossima parte di questo capitolo allora siamo arrivati aspettate dove siamo arrivati aspetta che lo trovo anch'io fammi vedere un po' ah dalla fine alla fine della discussione perfetto ok quindi direi che possiamo tornare al capitolo e lo leggiamo fino alla fine di questa parte quindi fino a sollievo e fardello stava facendo quindi circa una paginetta una paginetta e mezza quasi due pagini quindi buona ascolto a voi e buona lettura a Riccardo a dopo comunque ci tengo a sottolineare che sì è vero non mi ricordo chi l'ha detto che Tolkien ha preso per il Quenia ispirazione dal finlandese che era una lingua che quando l'ha scoperta ha detto che è stato come trovare una cantina piena di vini pregiati non lo so se Paolo forse tutti lo ricordi questa citazione qua che gli disse della cantina dei vini sul finlandese però non mi ricordo dove ho letto questa cosa ma sono abbastanza convinto che disse pure per il Quenia di aver preso ispirazione dal vocalismo greco che gli piaceva che gli piaceva appunto la qualità molto vocalica delle lingue mediterranee e soprattutto del greco antico che era rispetto al Sindarin che invece è molto più ispirato appunto alle lingue gallesi e alle lingue gaeliche il Quenia è una lingua molto più aperta molto più vocalica molto più fatta di suoni trascinati che sembra quasi più un canto mentre il Sindarin sembra più un sussurro fatto di molte consonanti cioè che mentre il Quenia è fatto di vocali il Sindarin è fatto di consonanti come base ho questo ricordo non ve lo so citare ma ho questo ricordo Rick dicono in chat che comunque c'è ancora un po' di eco mi sa provare ad avvicinare ah sì? così come mi sentite? eh ma c'è l'eco c'è un po' di eco non so perché davvero mi sentite con l'eco? volete proprio a uscire e a rientrare? prova prova un attimo provano la proviamo è strano perché ha lasciato tutto con le stesse impostazioni va bene è infatti è strano eh vabbè rientro subito va bene ci vediamo fra 20 secondi va bene va bene va bene nel frattempo voglio ringraziare Bottegaro grazie per il Prime grazie 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 e allora sì adesso infatti sta uscendo adesso poi ritorna vediamo un po' se che succede se succede se è tutto a posto giuramento incredibile complimento intenzione di mettere sul canale poi restate vincolone per l'eternità è vero è vero più che altro ragazzi il problema è sempre quello è lo stesso problema per il quale noi non possiamo mettere queste letture integrali su YouTube infatti come sapete io le metto in maniera limitata cioè il problema del copyright proviamo adesso proviamo come vi sentite adesso adesso bene bellissimo come prima come prima semplicemente impazzito un attimo questo computer lo devo cambiare prima tra videocamere che impazziscono può succedere può succedere e vabbè dai e allora quindi riprendiamo da alla fine dopo lunghe discussioni a te buona lettura e buon ascolto alla fine dopo lunghe discussioni Feanor la vinse e la maggior parte dei Noldor radunati si sentirono infiammati da un desiderio di cose nuove e con trade straniere sì che quando Finarfin tornò a parlare invitando alla moderazione e all'indugio un grande grido si levò no partiamo e seduta stante Feanor e i suoi figli cominciarono i preparativi per la marcia ben poco potevano antivedere coloro che osarono imboccare una via così buia ma tutto fu fatto in grandissima fretta Feanor continuando a spronarli nella tema che i loro cuori avessero a raffreddarsi e le sue parole perdere peso e altri consigli prevalessero e per fieri che fossero i suoi detti non dimenticava certo la potenza dei Valar ma da Valmar nessun messaggio Manue restò in silenzio non intendeva né vietare né ostacolare i propositi di Feanor perché i Valar si affliggevano ad essere accusati di brave intenzioni nei confronti degli Eldar e di tenerle in cattività contro la loro volontà e ora stavano a guardare e ad aspettare non ancora persuasi che Feanor potesse piegare alla sua volontà la schiera dei Noldor e infatti non appena Feanor cominciò a ordinare i Noldor in vista della partenza subito scoppiò il dissenso che sebbene avesse ottenuto l'unanimità dell'assemblea quanto alla partenza non tutti erano concordi nel prendere Feanor come re più amati erano Fingolfi nei suoi figli e i suoi famigli e gran parte degli tirion sia lui sempre che vesse andare con loro e così al fine i Noldor si accinsero al duro viaggio quali due schiee di V Feanor e il suo seguito erano all'avanguardia ma dietro veniva la schiera maggiore guidata da Fingolfi e questi procedeva assai a malincuore solo perché Fingon suo figlio ve lo aveva indotto e perché non voleva essere diviso dal suo popolo così desideroso di andarsene o abbandonarlo agli impulsi di Feanor né aveva dimenticato la propria spada davanti al trono di Manue con Fingolfi procedeva anche Finarfin e per ragioni simili ma più di ogni altro riluttava alla dipartita e di tutti i Noldor del Valinor che nel frattempo si erano moltiplicati sino a divenire un grande popolo ben pochi rifiutarono di mettersi in via alcuni per l'amore che portavano ai Valar e ad Aule non certo meno degli altri alcuni per amore di Tyrion e delle molte cose che avevano fabbricato nessuno per tema dei perigli strada facendo ma mentre già le trombe squillavano e Feanor usciva dalle porte di Tyrion un messaggero giunse al fine da Manue così dicendo di contro alla follia di Feanor valga questo mio unico consiglio non partite l'ora infatti è sfavorevole e la vostra strada conduce appena da voi non prevedute nessun aiuto vi verrà dai Valar in questa cerca ma essi neppure vi ostacoleranno questo infatti dovete sapere come siete aggiunti qui liberamente liberamente ne ripartirete ma tu Feanor figlio di Finue per il tuo giuramento sei esiliato nell'amarezza disimparerai le menzogne di Melkor un vala egli è hai detto e quindi hai giurato in vano perché nessuno dei Valar tu puoi vincere nemmai potrai vincere anche se Eru al cui nome ti richiami tre volte più grande di quanto tu sia bene 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 grazie grazie Riccardo e anche qui hai fatto valere la ira feanoriana perfettamente l'hai fatta risaltare quindi grazie mi gasa tantissimo questa cosa mi ha gasato tantissimo Feanor e comprendo il tuo sentirlo come un personaggio preferito alla luce di quanto è bello farlo fin gol finirlo lo ammiro come persona ma come personaggio una noia da fare figura di Finarfield infatti allora io non ho mai detto che ovviamente Feanor è perfetto ho semplicemente detto che Feanor è il personaggio uno dei personaggi più epici più grandi che io abbia mai visto tutto qui ecco questo è il suo momento purtroppo Feanor non durerà molto non voglio spoverarvi nulla però questo è il suo momento dopo di questo purtroppo non ci saranno altri momenti questo è il suo momento più alto dal punto di vista di epicità ok poi il fatto che stia dicendo comunque delle ipocrisie che si sia si stia come dire smentendo da solo probabilmente per quello che è fatto e per quello che sta dicendo quello è un altro discorso però questo è il suo momento più elevato a livello narrativo a livello di di azioni questo è il suo momento che non tornerà più purtroppo comunque allora abbiamo concluso quindi la seconda parte di questo capitolo la prossima volta faremo l'ultima parte di questo capitolo quando non vi so dire ancora però ci sono altre quattro pagine circa quattro pagine e mezzo la prossima volta le leggeremo e finiremo questo capitolo 9 questo comunque è uno dei capitoli più importanti del Silmarillion quindi ci stava suddividerlo in tre parti se non proprio il capitolo più importante perché da questo come diceva prima Paolo deriverà tutto il resto praticamente il 90% del resto delle cose che accadranno allora essenzialmente che cosa è successo che i Noldor si sono avviati quindi qui è iniziato il viaggio ok addirittura Tolkien ci descrive le varie schiere come si posizionano nel gruppone Finarfin prima si mette in prima posizione poi un po' in retran si capisce che cosa fa Finarfin ah eh che palle mamma mia cioè se Fingolf è una noia Finarfin è proprio mamma mia il latte alle ginocchia Finarfin basta prendi una decisione e vabbè qui alla fine la cosa più interessante effettivamente qual è è l'araldo di Manwe che arriva e viene a dare un avviso ai Noldor qua notiamo subito una cosa i Valar in un mondo particolare di Manwe non se la sono presa perché gli Elfi se ne stanno andando effettivamente o secondo me pure per quello parliamoci chiaramente allora lui giustamente Manwe ha detto come siete venuti così ve ne potete andare ma sono sicuro che loro comunque se la sono presa male i Valar anche perché se ne stanno andando poi vai a capire senza il giuramento se Feanor non avesse fatto quel giuramento così forte ok i Valar si sarebbero incacchiati lo stesso vedendo i Noldor andarsene chi può saperlo secondo me sì forse non avrebbero reagito in maniera così pesante però comunque si sarebbero incavolati perché secondo me i Valar non volevano che se ne andassero gli Elfi in Noldor non volevano questa cosa e anche perché i Noldor erano comunque tra le per quanto si i Vanyar erano amati da Manwe e i Tereri da Aul e tutto il resto in Noldor erano tra gli Elfi probabilmente tenuti più a cuore comunque dai Valar perché erano comunque tra i più dotati erano i più particolari insomma i Noldor erano pur sempre in Noldor quindi di sicuro i Valar non volevano vederli andare via da Valinor era una grossa perdita e ovviamente Manwe il furbacchione invece di farsi di prendersi le sue le sue colpe perché come le ha Feanor l'abbiamo detto già tante volte ce le ha anche Manwe preferisce invece prendersela legarsela al dito per due bestemmioni tirati giù ma che palle sono due bestemmioni dai non è che abbia fatto chissà che cosa di grave comunque i Valar se la prendono parecchio sui due bestemmioni e gli fanno un bel avviso è una minaccia quella che gli fanno letteralmente non voglio rileggere adesso non sto qui a rileggere quella parte ma minacciano l'intera razza eltica questo è poco ma sicuro e infatti non partite l'ora infatti è sfavorevole la vostra strada conduce a pene che da voi non prevedute ecco io qua mi verrebbe da chiedere al caro Manwe scusami caro Manwe tu adesso stai prevedendo pene per inoldor quindi stai facendo a tutti gli effetti una previsione perché non hai fatto la stessa cosa quando hai liberato quel cazzo di morgo perché non hai fatto la stessa cosa allora fatemi capire Manwe fa queste previsioni a suo piacimento perché lui sta prevedendo disgrazie per gli elfi cose che poi avverranno quindi la previsione è giusta quindi lui è capace di fare delle previsioni perché non aveva fatte quando ha liberato Marco perché questa sua capacità si dimostrata si dimostrata si dimostrata valida solo quando deve andare contro gli elfi invece in quella decisione di liberare Morgoth lui non aveva previsto nulla non aveva sentito nulla come è possibile questa cosa qua viene accennato che Manwe fa la previsione o meglio comunque queste parole vengono dette dall'aralto di Manwe e il messaggio ci dice loro che giunse da Manwe quindi la previsione teoricamente non dovrebbe essere di Manwe ne di altri dovrebbe essere di Manwe ripeto come è possibile che lui non aveva previsto altre disgrazie quando aveva liberato Morgoth come è possibile questa cosa vabbè comunque poi dice che nessun aiuto vi verrà da Valar nella cerca anche se poi come sappiamo i Valar verranno in aiuto o comunque verranno in aiuto verrà gente da Valinor nella guerra d'Ira quindi comunque anche qua poi diciamo in parte si smentiranno però dice poi altrettanto che ovviamente così come siete venuti così ve ne potete andare anche se a me sembra allora dalle parole che dice l'Araldo a me sembra che i Valar comunque ai Valar non faccia piacere che se ne vanno giustificando la cosa dicendo che stanno andando verso un destino crudele verso disgrazie però poi dicono è come dire guarda io la penso in questo modo cioè la penso molto negativamente su questa cosa però poi fai quello che vuoi è come la fidanzata che ti dice secondo me non lo devi fare però poi fai quello che vuoi è tale qua è la stessa identica cosa è la stessa identica cosa cioè vi rendete conto che qui quindi il problema non è solo Feanor ma anche i Valar hanno qualche problema a maggior parte allora Manue per me sta scadendo sempre di più sta scadendo sempre di più al di là poi del bestemmione che tira Feanor che poi comunque ci può stare che si sono incazzati però tutto il resto cioè non sta non sta in piedi non sta in piedi prima Manue non fa non fa nulla non prevede nulla quando libera Melkor prevede adesso disgrazie per gli Elfi come è possibile poi gli dice bene potete andare però su di voi pioveranno pioveranno disgrazie non vi aiuteremo e che allora non è che tu mi stai dicendo che te ne puoi andare liberamente no mi stai dicendo guarda che è meglio che stai qua perché altrimenti avrai solo guai non è tanto non è l'ultimo avvertimento che gli manda poi ne avrà un altro di avvertimento esatto poi vabbè alla fine c'era bisogno di fare questa come dire di dire a Feanor dove sta dove gli dice che lui non l'araldo gli dice a Feanor che non conti un cazzo praticamente non serve a nulla e tutto il resto c'era bisogno di dire una cosa del genere ma tu scusa lo devi convincere a tornarsene o lo stai semplicemente aizzando ancora di più c'era bisogno di fare una cosa del genere cioè allora come diplomazia i Valar stanno a zero Manwe sta a zero sotto zero come diplomatico cioè non sa parlare Manwe non sa non sa prendere decisioni non sa fare un cazzo chi l'ha messo al trono chi l'ha messo al governo io voglio sapere chi l'ha messo al governo a Manwe non sa fare nulla ha fatto ha creato solo problemi e invece di migliorare la situazione l'ha peggiorata sempre di più sempre di più l'ha peggiorata c'era bisogno di dire una cosa del genere e poi e grazie al cacchio poi se tu gli dici una cosa del genere a Feanor che reazione puoi avere ma che senso ha no ragazzi qui c'è proprio un problema di gestione della diplomazia da parte di Manwe è un po' di tutti i Valar c'è proprio un problemone qua e ovviamente Feanor se ne infischia di tutte le cose anzi le prende al suo vantaggio perché è come se i Valar avessero minacciato gli Elfi perché gli dicono tutti voi che avevano disgrazie ma non voi va bene che lo fanno in parte perché magari vogliono farli convincere a tornare indietro però non mi sembra il modo di dire le cose se tu vuoi convincere un'intera schiera di Elfi che sono già stati soggiocati da Feanor a tornarsene indietro usa delle parole usa delle parole un po' più diplomatiche questi quello che fa Araldo è prevede disgrazia e morte e distruzione sulla testa degli Elfi gli dice gli dice che i Valar non li aiuteranno in alcun modo però se ne possono andare se loro vogliono però disgrazia su di voi e poi gli dice che Feanor non conta un cazzo ma in che modo questo dovrebbe convincere gli Elfi a tornare a casa raga in che cavolo di modo ma dai ma veramente stiamo facendo allora ripeto qui c'è un problema di gestione della diplomazione da parte dei Valar e soprattutto rimango e ripeto la reazione di Feanor non è che la dobbiamo attendere più di tanto Feanor risponde sulle righe risponde come si deve ecco vedete la differenza tra un leader che sa parlare per quanto ipocritamente ma sa parlare come Feanor e invece un povero deficiente che sta sul Taniquertil e pensa di saper tutto e di gestire tutto e invece fa solo stronzate la differenza tra i due ma voto voto ovviamente Feanor voto mille volte Feanor rispetto a rispetto a ma vabbè parte questo vai Paolo a te sei mutato Paolo aspetta sei mutato Paolo ecco qua ora sei smutato poveri Valar tutte tutte le volte che intervengono con un vaticino e nessuno li ascolta questa sarà una caratteristica di tutto il Silmarilio adesso parlano di Feanor e nessuno li ascolta poi manderanno inviati da Orodret quando ci sarà Turing e nessuno li ascolterà poi mandano l'inviato a Gondolin a Visai e nessuno li ascolterà poi nella seconda era manderanno inviati anche a Numenor e nessuno li ascolterà cioè poveri Valar anche lì puoi attaccarli però c'è da dire che l'ostinazione degli elfi e poi degli uomini è totale però che comunque qua quello che dice Mangue prefigura il futuro di quello che succederà nel Silmarillion perché A andate dove volete nessuno vi ferma B vi accorgerete che le cose non sono come dite voi quindi non andrerete a cui viene mi fermerete molto prima ci noi non vi aiutiamo e questo arriva fino alla fine e sarà così e infatti alla fine di tutto la guerra d'ira i Valar non sarebbero intervinti è che c'è qualcuno che va a implorare il loro aiuto perché altrimenti sarebbero stati coerenti con le loro posizioni e di dicono a Feanor che non vincerà mai perché è una creatura e non può sconfiggere un Valar come Morgoth e ci hanno ragione perché vedremo che Morgoth è il principio del male incarnato nel mondo e questo se nel Silmarillion c'è fino a un certo punto noi sappiamo dalla history ma soprattutto poi dai figli di Urin che in realtà Tolkien vedeva Morgoth come la vera personificazione del male e quindi impossibile da sconfiggere per chiunque anche mettendo insieme gli eserciti di Elfi uomini nani impossibile da sconfiggere e di questo Morgoth e Feanor si renderà conto sulla sua pelle al momento però è talmente superbo che non ascolta niente avresti potuto dirgli qualsiasi cosa tanto avrebbe fatto il contrario poi la cosa ironica di tutto questo è che le parole di Feanor non hanno effetto per niente e nessuno se non per se stesso e per la sua stirpe questa è la tragica ironia di questo perché tutta questa questo fuoco questa superbia messa in mostra da Feanor che dice noi faremo quello che i Valar non hanno mai osato fare loro vorrebbero ma non lo fanno noi andremo nella terra di mezzo a sconfiggere Mekor li porteremo via i Silmaril restituiremo ribalteremo l'ingiustizia subita non gli succederà niente di tutto questo e anzi tutto quello che lui fa che dice gli si rivolterà contro e quindi alla fine di tutto questo boh a chi dai la colpa ai Valar o a Feanor io tendo a dare ragione ai Valar che l'hanno messo in guardia la sapevano più lunga glielo dicono tu sei solo una creatura anche se tu fossi alto tre volte tanto non potresti niente contro Mordote e noi non vi aiutiamo e quindi questo dice no vedrete che ce la faremo noi noi faremo quello che voi paviti non fate invece chissà come sarebbe andata noi non sappiamo se i Valar avrebbero in qualche modo preso le misure il problema è che Feanor non si fida Feanor fa di testa sua a fretta e fa come dice lui e quindi volta le spalle in tutti i sensi ai Valar quindi stiamo di posizioni di avverse ecco ma come ti fai affidare di uno come Manuel dai ma allora dimmi ma io lo chiedo a tutti ditemi una sola no no aspetta no no ditemi una sola cosa buona che ha fatto Manuel una sola una sola anche lui ha fatto cose buone sto scherzando no lui neanche quelle non ha fatto cosa ha fatto di buono Manuel cosa ha fatto Frank Frank ma i Valar sono come la mamma quando sei piccolo dici che rompi scatole poi dici aveva proprio ragione lei ma per cortesia ma per cortesia ma guarda la mamma guarda che quello che dice Riccardo è molto vero perché in questo episodio c'è è molto moderno tutto questo discorso perché è l'uomo che si affranca comunque da boh dalla divinità da qualcun altro e decide di diventare il padrone del suo destino e questo è il peccato all'origine di tutto Fenor dice di fatto faccio quello che voglio e conseguenze ricadano su di me e quindi io ci vedo in questo in questo discorso una trasposizione mitica comunque di una presa di posizione moderna che porterà poi gli elfi a comportarsi come se non ci fosse una divinità ed è molto difficile poi vedere tutto questo in relazione invece agli elfi della terza era che invece hanno un rapporto molto diverso con Valido proprio perché stanno tornando qua invece c'è proprio c'è l'uomo moderno che dice no voglio decidere io e questo poi tornerà anche all'interno della storia di Turin quando la vedremo non si sa quando e anche lì Turin farà un ragionamento sui Valar sulla loro esistenza sul loro intervenire che è molto simile a questo di Feyenoord Rick vuoi dire qualcosa a riguardo? che sono assolutamente d'accordo con il discorso che fa Paolo sul fatto che l'astis che gli ho lanciato sul fatto che i Valar sono un po' come la mamma dai è vero non voglio aggiungere niente Paolo si è giocato egregiamente l'astis che gli ho lanciato io ovviamente io sapete di che di che fazione sono però vabbè allora Monico eh sì ma anti Manwe soprattutto comunque Manwe è proprio l'odio assoluto scusate ma è incompetente dai ma l'ha dimostrato allora io ve l'ho chiesto sinceramente ditemi una cosa buona che ha fatto Manwe non mi avete risposto perché probabilmente le cose buone non ne ha fatto stop quindi non è che c'è molto da dibattere Manwe è povero Manwe è povero Manwe è l'unico interprete della volontà di Luvatar Manwe è povero si assume la responsabilità di esprimere i giudici vabbè il giudice mando però quando si tratta di Luvatar Manwe deve interpretarla magari anche lui magari anche chissà se giudicendo chissà se sta giustamente interpretando i voleri di Eru però si prende tutto il biasimo ma alla fine sono in dodici diciamocelo lui è solamente il portavoce di tutti quanti loro cioè tutte le bestembe che tu Frank lanci contro Man ti vala in realtà perché loro sono un unico loro sono un unico cervello è lo stesso discorso che facevamo l'altra volta a me sembra semplicemente che questo Manwe non ha queste grandi competenze e poi nessuno nemmeno mi ha risposto su questa cosa com'è possibile che adesso ha previsto e invece quando ha liberato Melkor non l'aveva previsto com'è possibile perché quando ha liberato Melkor non l'aveva previsto guai e invece adesso sì com'è possibile questa cosa allora questi suoi poteri di preveggenza li usa solamente a piacimento o li usa quando gli capita non capisco questa cosa bisogna vedere se i poteri di preveggenza riguardano anche gli altri Valar perché gli altri sono creature sono un po' diversa qualcosa infatti e allora quindi non ha questo gran potere se può prevedere solamente quello che le creature fanno cioè quindi non può prevedere ogni cosa vabbè già iniziamo da quello diciamo accettiamola come spiegazione tutte le profezie che fatte dai Valar secondo me arrivano però questa questa teoricamente non dovrebbe essere una profezia dovrebbe essere una previsione quindi non so tutte queste previsioni però secondo me vengono da Mandos è per lui che non ce lo dice allora però ci dice semplicemente nel testo che abbiamo letto che hai letto ci dice che il messaggio veniva da Manwe poi vai a capire si sarà consultato con Mandos e allora vi chiedo anche Mandos probabilmente non può prevedere nulla al di fuori delle creature cioè le azioni dei Valar non le può prevedere eh vabbè sì dobbiamo pensare forse in questo modo comunque Manwe lascia che gli alfi imparino sulla loro pelle nelle conseguenze delle proprie scelte Manwe il signore delle aquile come il grande beh Monico a me non mi sembra che lui abbia quelle intenzioni cioè lui perché mandare l'Araldo se lui vuole che a convincere Inolda da tornare se lui vuole che le cose che loro imparino sulla propria pelle e soprattutto ma vi rendete conto delle parole che ha utilizzato l'Araldo ma vi sembrano parole diplomatiche convincenti quelle è vero proprio come ha detto Paolo sono d'accordo probabilmente Ferdinand se ne sarebbe infischiato anche se gli avessi offerto un milione di valuta di valitor avrebbe di bitcoin valitoriano esatto avrebbe rifiutato anche in quel caso però non sono parole diplomatiche dai non puoi dirgli letteralmente non vali un cazzo e aspettarti che lui si convinca a tornare ma che dove ha studiato diplomazia Manuel dai però Manuel comunque in questo suo intervento con l'Araldo non dà ordini cioè non dice agli elfi non andatevene dice io vi sconsiglio di andare io giudico nemmeno la tua nemmeno le nostre fidanzate ci danno ordini o meglio non lo so ci danno ordini ci danno consigli molto calorosi molto calorosi esattamente che se non rispetti i guai poi arriveranno e lo sai molto bene quella è la strategia è la tattica che usa Manuel mi scuseranno ovviamente le fidanzate in ascolto però è vero siete molto potenziali è la fidanzata in pratica è la fidanzata di Manuel prima di Fietano esatto Manuel è presidente del consiglio e ero presidente della repubblica è il momento che io dovevo spatriare definitivamente praticamente ok apposto i Valar gli rimproverano diverse colpe uno come diceva Paolo parlare da un luogo dove gli era vietato accusare i Valar di schiavizzare Inoldor giurare sui Valar è ero stesso è ero stesso vincolare i suoi figli per sempre ingannare Inoldor con la sua eloquenza ragazzi allora io non dico che Feanor si sia comportato bene l'ho detto prima e ha fatto un discorso che più populista non si può io dico semplicemente che i Valar soprattutto Manuel probabilmente anche per l'ennesima volta non si sono comportati nel modo più giusto ok quindi dare ragione totalmente ai Valar io la vedo una forzatura bella e buona perché Feanor ha le sue colpe Feanor è una testa di cazzo questo ormai non è che lo scopriamo oggi però anche i Valar non è che ci scherzano soprattutto Manuel ripeto ma che diplomazia è quella delle parole che usano l'Araldo quella non è diplomazia è pazzia come diceva un grande re di Sparta è pazzia no quello era ecco in quel caso era l'Araldo di Cerse che diceva questa è pazzia non è Sparta è fea non ha fatto la stessa cosa l'Araldo che dice questa è pazzia no io sono fea non ho il boom e l'ha mandato e ciao ciao comunque i Noldor stanno andando a fare la guerra a Morgoth in questa situazione anche io sono in grado di prevedere sciagure e disgrazi e infatti bravo Fabio anche questo è vero siamo tutti bravi a fare queste profezie infatti ma che poteri ha questo Mauwe effettivamente ma che poteri hai a parte star tenere seduto sul cucuzzolo della montagna Gian dice la politica di Mauwe è giunta all'altro mondo Mauwe dimettiti come non essere più d'accordo Dico dice per quanto avevamo fanno del preferito ti capisco che Frank ma credimi valano pienamente allora pienamente no non sono d'accordo non sono mai d'accordo diciamo che se proprio devo tirare delle percentuali un 40% ce l'ha di ragione ce l'ha Feanor è un 60% lo do ai Valar quindi vedete comunque perché ripeto il discorso che fa Feanor per quanto è esaltante è una delle cose più belle del Silmarillio è molto ipocrita quindi è vero ti lascia un attimo ma che stai di Feanor dai ma veramente stai fa Feanor veramente stai a fa cioè a pensarci bene uno dice ma questo veramente sta facendo però è esaltante come discorso però gli toglie dei punti le cose che lui dice e gli dà i Valar però poi i Valar perdono tutti i punti quando gli mandano quel cazzo di Araldo a dire quelle cose quelle stronzate Nico dice l'unica cosa per non far partire il Ferro sarebbe stato fermato con la forza poi questa sarebbe stata dittatura nulla avrebbe fatto cambiare idea allora anche questo è vero però comunque prova allora io ve lo chiedo ancora per l'ennesima volta ma secondo voi le parole che ha usato l'Araldo sarebbero le giuste parole da usare in quella situazione cioè se voi volete convincere una persona a tornare gli andate a dire che non conta un cazzo veramente così ragionate questa è la diplomazia per voi cioè io l'ultima cosa che gli vado a dire a una persona che tengo a far tornare è non conti un cazzo è quello che gli dice Emanue ma che cosa ti aspetti che cosa dovrebbe fare allora lì la questione non è che Fea non sarebbe comunque tornato cosa ovviamente su cui sono abbastanza d'accordo ma che probabilmente era il stesso Manue che forse non aveva proprio l'intenzione di farli tornare quindi perché mandare quell'Araldo e usare quelle parole se tu comunque magari non lo volevi però lo far tornare perché se gli vai a dire quelle cose caro Manue che cosa ti aspetti che fa Feanor cosa ti aspettavi che facessi che tornassi indietro a chiedere scusa ma dai qui c'è proprio una mancanza da parte di Manue nella gestire la situazione che poi ripeto ma Feanor sarebbe comunque andato per la sua strada probabilmente è così non possiamo averne la certezza ma è molto probabile però provaci provaci per bene caro Manue se veramente vuoi che tornino non fingere allora perché mi è sembrata quasi una finta da parte di Manue di volerli far tornare con quelle parole Manue è troppo buono è troppo buono così buono da risultare ignavo il problema di Manue è che non vede il male negli altri è il suo limite però le disgrazie le ha sapute prevede esattamente come Malco non riesce a comprendere il bene lo stesso Sauron viene distrutto proprio a causa di incapacità di concepire l'altruismo e il disinteresse questo è tutto il discorso che abbiamo fatto l'altra volta ragazzi il fatto che Mandos non riesca a vedere non riesce a vedere il male vabbè lasciamo stare secondo me Mandos pur prevedendo il futuro non lo cambia la musica e il destino allora io capisco che volete trovare giustificazioni nel governo di Manue però dal mio modestissimo punto di vista non ha giustificazioni così come esattamente Feanor in molti casi non ha giustificazione anche Manue l'atteggiamento di Valar non ha giustificazione quindi io ecco ad essere proprio sincero a questo punto io non dovrei manco più prendere una parte perché entrambe le parti hanno torto in questo caso in questo caso hanno sbagliato entrambe le parti da una parte Feanor a fare un discorso ipocrita solamente per cazzi suoi dall'altra i Valar che non hanno la minima idea di cosa sia la diplomazia a quanto pare perché è vero sono le divinità voi direte ebbè Frank ma sono le divinità della terra di mezzo di Arda che possono mica essere troppo diplomatici con una creatura come Feanor ho capito ma dovrebbero comunque vedere all'obiettivo l'obiettivo qual è? far tornare indietro i Valar e i Feanor altrimenti altrimenti non gli avrebbe proprio inviato se Malvo non fosse fregato nulla non l'avrebbe proprio inviato l'Araldo gli manda l'Araldo per comunque per cercare di convincerli perché comunque non li sta obbligando quindi la sua intenzione è semplicemente convincerli ma prova a convincerli con parole giuste con parole che possono funzionare non dicendogli quelle cose tutto qui io penso che si sia sbagliato mettila nei termini di chi abbia ragione parliamo di entità di natura profondamente diversa questo pure è vero già mettersi sullo stesso piano di Valar è un peccato di una quotanza dei parti di Feanor è quello che ho appena detto sono d'accordo di certo i Vivalar non è che devono stare lì a pregare Feanor però se comunque gli ha mandato l'Araldo a cercare di convincerlo provate a convincerlo per bene provate a convincerlo con le giuste parole non in quel modo è quello il punto io non sto mettendo in dubbio che Feanor stia stronseggiando che abbia fatto tante cazzate e che lui comunque non sarebbe tornato in alcun modo sto mettendo in dubbio come i Valar stanno gestendo la situazione potevano gestirla molto meglio soprattutto Manwe quello che io sto dicendo e vabbè volete aggiungere qualcos'altro Paolo prima di chiudere anche questa seconda parte Paolo no no aggiungo solo che Feanor rappresenta in pieno l'uomo impio che pensa di fare tutto da solo e di volgere le spalle alla divinità nonostante sia stato avvisato è una cosa che mi fa venire in mente tutte quelle volte che nella Bibbia c'è un profeta che dice attento perché se fai così finisci male e questo qui fa quello che vuole alla fine finisce malissimo ed era vera la parola dei profeti e in questo caso purtroppo ti piace o no la parola di Mangue è vera e succederà proprio questo perché vedremo che gli elfi non riusciranno a vincere contro Mordot e quindi valutiamo se Feanor con tutta la ragione che poteva avere alla fine ha fatto la cosa giusta o forse avrebbe fatto meglio ascoltare la radio di Mangue lo vedremo molto presto ecco la disposta ovviamente noi già la conosciamo già la conosciamo però questo non vuol dire che la colpa è solo di Feanor io tendo voglio ribadire questa colpa ad un discorso duro non puoi rispondere con rose e fiori a volte necessitano mostrare i muscoli l'aralto di Manu ha detto la verità con forza secondo me neanche troppo esercizio però Fabio l'ho detto sono d'accordo che i Valar non è che potevano stare lì a mettersi in ginocchio davanti a Feanor questo è ovvio però scusatemi ragazzi se tu hai un obiettivo diplomatico ok la mia compagna è una diplomatica lei ha un obiettivo quando va a fare i negoziati quando va a fare i negoziati lei sa quale obiettivo raggiungere quindi lei userà le parole più giuste per raggiungere quell'obiettivo è così che dovrebbe ragionare un diplomatico se tu invece vai a fare un negoziato ok con un obiettivo e usi parole totalmente opposte al raggiungimento di quell'obiettivo ma che senso ha che diplomatico sei quindi che qual è il senso di mandare un diplomatico se vuoi comunque usare quelle parole e i Valar non possono nemmeno dire che non lo conoscono a Feanor lo conoscono troppo bene a Feanor quindi lo sapeva Manwe che non avrebbe mai convinto Feanor con quelle parole probabilmente lo sapeva anche che non avrebbe mai convinto e allora ecco e qua esce la bastardaggine di Manwe perché mandare perché mandare l'araldo se magari Manwe sapeva comunque che qualsiasi parola avrebbe usato non avrebbe convinto Feanor solamente per minacciarli solamente per dirgli guardate che avrete disgrazie solamente per farli andare vedete quando ecco vedete vedete qui c'è anche una bastardaggine da parte di Manwe cioè mi fa andare ma non prima di avergli detto guardate che avrete dei guai alla fine quindi fatemi capire una cosa lo scopo di Manwe era quello era solo quello quello di dire a Inold avrete dei guai andate cioè per me per come la vedo io è proprio una grande bastardata questa cioè tra l'altro non è nemmeno un atteggiamento questo da divinità dal mio modestissimo punto di vista raga no io da qualsiasi punto di vista vado a valutare l'atteggiamento dei valori in modo partito di Manwe per me ne esce totalmente scaduto proprio scaduto come divinità mettiamole in questo modo questo non vuol dire che Feano non abbia le sue colpe non vuol dire quello vuol dire semplicemente che qui le colpe stanno da entrambe le parti o comunque non vogliamo parlare di colpe le mancanze ok stanno da entrambe le parti Rick vuoi aggiungere qualcos'altro tu assolutamente no assolutamente no no basta non ho assolutamente nulla da aggiungere ragazzi abbiamo detto tutto quello che c'è da dire su questo capitolo e basta diciamo sì Grazie.